Se volete diventare una modella, allora... Non ho mai detto di voler fare la modella. Mi avete chiesto voi di posare o sbaglio? Non so neppure il tuo nome. Marte. E tu? Pierre. Vuoi vivere con me? Vieni qui! Quelli sono i miei amici. Ina B, Serousier, Signac, Vuillard. Insieme abbiamo deciso di rivoluzionare la pittura moderna. Nient'altro. Ti amo, Pierre! Pierre, quella ragazza vi complica la vita. Vi sequestra in campagna quando dovreste essere qui, nel momento in cui tutto si apre a voi. Qualcosa non va, Marte. Sono preoccupata. Preoccupata per cosa? Pierre mi tradisce. Allora l'indolente siete voi. Vostro marito vi ha resa un mito, signora. Un mito? Un giorno me ne andrò e non mi vedrai più, mai più! Io non posso fare a meno di te. Mi hai usata! Tu e Marte mi avete usata! Faccio sovente sogno di una donna sconosciuta che amo e che mi ama. Pierre è molto fortunato ad avervi, Marte. E la mi comprende. E il mio cuore trasparente per lei soltanto cessa d'essere un enigma per lei soltanto.